OMAG, azienda italiana leader nel settore del packaging da oltre 50 anni. Progettiamo, costruiamo ed esportiamo in più di 50 paesi nel mondo macchine e impianti per il confezionamento di buste, stick, monodose con applicazioni in molteplici settori come il farmaceutico, l'alimentare e il chimico. Gli alti livelli di digitalizzazione, automazione ed efficientamento energetico richiesti oggigiorno dal mercato sono uno stimolo costante verso l'innovazione. Per questo dall'inizio del nuovo millennio collaboriamo con il nostro partner tecnologico Snyder Electric, una partnership consolidata dall'applicazione di svariate soluzioni come la tecnologia Pack Drive, la tecnologia Machine Expert Twin e ancora Machine Scada Expert, un software per gestire anche da remoto i consumi energetici e l'efficienza produttiva delle linee e delle macchine. La robotica è uno degli aspetti chiave negli impianti di OMAG. Un esempio significativo è l'applicazione della tecnologia multi carrier Lexium MC12 di Snyder Electric ai sistemi di abbinamento OMAG. Abbiamo integrato un robot ad un carousello di cassetti indipendenti che conferiscono alla linea maggiore performance ed un'elevata flessibilità. Tutte le soluzioni di Snyder Electric ci hanno consentito di intraprendere la strada della sostenibilità. Ad esempio i servomotori utilizzati consentono un risparmio energetico del 20% rendendo le confezionatrici OMAG attuali, prima al tema dell'industria 4.0 ed oggi a quello della 5.0. Sempre attenti alle esigenze dei nostri clienti, al centro di ogni progetto OMAG Snyder, la transizione 5.0 si candida prepotente come una delle priorità consentendo agli utilizzatori di contribuire alla sostenibilità e risparmiare a fronte di investimenti maggiori.